Sono già colmo di palitani pesanti, ora che il filpano, titolare e l'estra, assorto e ammalatena il caos, il caos di motore agitimisti, la feccia di pagliacci umani, la posa e del limpa, che hanno eventi di memoria e misteri a forma di stasera, il calidone sinistro, ministro di città e amministrazione. Sarà la prima volta che, settima volta, l'ultima, ho tempo ancora per ricomporre un mosaico dal 100 al 1000, diminandogli fuochi a tirare, tirare per sentire agganci alla polire, non mi temo il dolore e il mercoglio che non dura sempre.